L'edizione 2018 di Radicamenti, che si è svolto a Mendicino, in provincia di Cosenza, si è conclusa con l'esibizione di Peppe Servillo e dei soli string quartet su Monte Cucuzzo. Un concerto a cui hanno assistito numerosissime persone, un evento che ha coniugato musica e natura. Il cantante campano, emozionato con il suo repertorio dalla tradizione napoletana, con brani come Te voglio bene assai, Dicit in cello voi, Acasciaforte, Dove sta zazza, divertendo anche il pubblico con le sue movenze da estrione. Il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo, e il direttore artistico, Checco Pallone, alla fine del concerto, nel ringraziare il pubblico presente, hanno lanciato già l'edizione del prossimo anno, dopo una settimana, non ricordiamo, in cui si sono esibiti nel centro storico del Borgo, alle porte di Cosenza, artisti come Roi Pace, Liare Tusca, Enzo Vitabile, Valentina Balestiere e i Tiradritto. Grande momento di questa edizione, 2018 di Radicamenti, è stato il debutto della Calabria Orchestra, il progetto che ha creato l'orchestra di musica di tradizione messa insieme dalla comune di Mendicino.